Bagnaia 2015, siamo qui con uno spettatore d'eccezione, Roberto Arrioldi. Purtroppo per il momento è assolutamente impedito dal montare in sella e noi ne approfittiamo per fare quattro chiacchiere con lui. Come sta intanto? Sto bene, purtroppo devo star fermo perché mi sono rotto la scapola e purtroppo ci vuole un mese per la guarigione. Spero di rubare qualche giorno, però adesso sono passati solamente 15 giorni, vedremo un po' più avanti come sarà. Lo sa che tutti pensavano lei fosse già montato in sella, vero? Lo sono già montato in sella, però con una vado, purtroppo non posso ancora saltare. È il mio corpo che mi dirà quando non ho male e comincerò a saltare. I percorsi qui sono disegnati da uno dei cavalieri più famosi, più apprezzati da voi, cavalieri. Cotier, cosa pensa del suo modo di disegnare i percorsi? Cosa si aspetta da lui qui a Bagnaia? Cotier è un po'... ti puoi aspettare di tutto perché magari ti può mettere un percorso abbastanza facile e ti può mettere un percorso veramente difficile da affrontare. Dipende dalle giornate. Io trovo che non sempre si riesce a sapere il percorso che andrai a trovare, però è un cavaliere e sa mettere le difficoltà nei posti giusti. Francesca si sta preparando, coi cavalli ha portato? Ha portato l'Europeana Lorena e l'Europeana Seglia. Sono due buone cavalle e penso che farà un buon concorso. Come si sta a Bagnaia? Beh, guarda, basta che alzi gli occhi e cosa puoi dire di meglio. Veramente uno dei concorsi più belli che abbiamo in Italia. Bisogna solo sperare che ci assista il tempo, ecco. Grazie mille e a presto ancora qui da Bagnaia 2015.